Buongiorno, ciao a tutti ragazzi, buon lunedì, oggi è il lunedì dei lunedì, buon 2 settembre. Vi dico la verità sul perché sto facendo questa diretta, stavo ripassando, per l'orale, aiuto, dal mio magico quaderno, niente, ho detto basta, perché sono le 11 e fa già troppo caldo per sostenere lo studio a quest'ora. Ciao Federica, ciao a tutti, ciao Giorgia, mi continuano ad arrivare messaggi di annullamento nomine, mi ha scritto una ragazza poco fa, anche in provincia di Chieti, hanno rettificato tutte le supplenze. Quindi volevo approfittare per dirvi una cosa, se ricevete la nomina, chiamate la scuola prima, perché magari uno o due minuti di telefonata magari si evita un viaggio. Era una cosa che non si poteva fare durante il weekend, perché ovviamente le nomine che sono arrivate lunedì, scusate, che sono arrivate sabato, sabato sera, eccetera, non davano la possibilità di prendere e telefonare, perché ovviamente non risponde nessuno. Quindi uno cosa fa? Prende, si fida, baracca i vorattini e va. Ciao, confermo, in provincia di Brescia sono andata a fare la presa di servizio e mi hanno rimandato a casa. C'è anche qualcuno che mi ha scritto, ma adesso questi docenti verranno rimborsati? No, non credo proprio. Quindi se il mio USP non è ancora nominato, forse sarà più accurato? Io lo spero, io lo spero veramente. Spero di sì. Alla presa di servizio si devono portare le copie dei titoli che ho presentato alla compilazione della domanda? No, non c'è bisogno. Oddio, aspettate, scusate. Stamattina l'USP di Rimini ha pubblicato il modulo per il ritiro delle 150 preferenze, senza dare una tempistica. Tu sai entro quanto tempo, quanto questa fase può durare? No, non lo so. Cioè tutti gli USP stanno dando scadenze diverse, quindi non saprei dirti. Tutta questa fretta di pubblicare per la pressione del Ministero. E credo, credo non sia, cioè, in realtà hanno avuto fretta sì perché nella loro testa volevano mandare le nomine il 31 per dare la possibilità alle persone di prendere servizio il primo giorno utile, che oggi, cioè anche dal punto di vista economico, sarebbe stato un vantaggio. Il problema è che le cose fatte di fretta non vengono mai bene, cioè non vengono bene pochissime volte. Gli interpelli potrebbero iniziare anche prima delle graduatorie d'istituto? Assolutamente no. Solitamente il secondo bollettino, dopo quanto tempo esce, dipende. Bisogna aspettare che venga pubblicato il primo bollettino, che vengano recepite tutte le rinunce, ricalcolati i posti disponibili, allora solo successivamente si può procedere al secondo bollettino. Ciao, scusami se ti disturbo, mi sta venendo un dubbio, dove devo vedere per la presa di servizio da GPS nel bollettino pubblico del tuo USP di riferimento? I sindacati hanno diffidato l'USP di Chieti Pescara per non aver tolto gli immessi in ruolo. Pensi si possa fare qualcosa? Allora, in realtà questa questione degli immessi in ruolo è abbastanza innocua per quanto fastidiosa, cioè le persone che sono immesse in ruolo non possono compilare le preferenze GPS per la stessa classe di concorso per cui sono in ruolo. Per cui è vero che le graduatorie sono piene zeppe di persone che sono in ruolo, ma se quelle stesse persone non compilano le preferenze e non lo compilano perché non possono farlo, non danno alcun fastidio. Quindi sì, è vero, andrebbero tolti perché così si falsano le posizioni, però di fatto se io sono di ruolo su sostegno primaria non posso stare a compilare le graduatorie, le 150 preferenze di sostegno primaria. L'algoritmo sapete che prende in considerazione solo chi compila le preferenze, quindi insomma lascia un po' il tempo che trova, ci sarebbero cose ben più importanti di cui occuparsi. Che è successo a Brescia? Sono entrata adesso, niente, la gente è arrivata per prendere servizio ed è stata mandata indietro dalle scuole perché c'è stato un errore, c'è uno, più errori. Ma si possono aggiungere posti disponibili da GPS oltre a quelle già pubblicate? Una volta finita la graduatoria riparte dall'inizio? Cosa vuol dire riparte dall'inizio? No, l'algoritmo non torna indietro se intendi questo e le disponibilità dei posti che io sappia non le ha pubblicate nessuno, però se voi avete notizie contrastanti fatemelo sapere. Allora, ho ricevuto posto GPS annuale infanzia, la dirigente ha detto che vedrà perché ne ha uno per il concorso e uno su potenziamento, vedrà cosa darmi, come può essere. Eh, queste sono scelte che stanno facendo i dirigenti perché ovviamente i posti accantonati per il concorso sono tornati indietro ai dirigenti scolastici e quindi adesso devono capire bene come distribuirli. Uscita graduatoria, ero trentaseiesima in prima fascia, uscita graduatoria con assegnazioni, sono diventata sedicesima, ci sono state ben venti persone prima di me che non hanno compilato le centocinquanta preferenze. La Liguria ancora non ha pubblicato, non lo so, dovete guardare sui siti, perdete meno tempo a guardare sui siti che chiedere a me. Milano ha pubblicato le disponibilità, ah ok, ok. Dopo le nomine però. Carini. Dopo le nomine ti piace vincere facile. Aiuto, ho compilato le centocinquanta preferenze, ora guardo la graduatoria pubblicata perché non appaio, perché non ci sono tanti motivi, se vuoi vai a vedere il video che ho fatto ieri su YouTube che si chiama Perché l'algoritmo ti ha saltato, come fosse un canguro. Ah, subito prima delle nomine, vabbè. Volevo chiederti se per caso si sa qualcosa su quando usciranno le nuove convocazioni GPS Piemonte. No. Tutto quello che potete sapere in termini di tempi è tutto quello che c'è pubblicato sui siti degli uffici scolastici. Dicono che oggi Venezia pubblicherà le disponibilità delle scuole, può essere Francesca, ne dubito fortissimamente perché non hanno manco pubblicato ancora le graduatorie. Poi magari si svegliano e fanno tutto all'improvviso, io non lo so, il punto principale è che non lo so. Anche Bergamo ha pubblicato le disponibilità, è stato fatto subito prima delle nomine. Sì, generalmente lo fanno prima delle nomine, anche Venezia l'anno scorso l'ha fatto prima delle nomine. C'è qualche problema per quanto riguarda la modalità di inserimento delle 150 preferenze? Nel senso, se inserisco intere città o distretti invece di singole scuole, sarà un problema? No, non è un problema, è una scelta individuale, l'abbiamo detto tante volte. In Emilia Romagna sono fermi alle nomine del personale ATA, manchiamo solo noi. Quanti bollettini di nomine ci saranno in genere in linea di massima? Eh, non lo so, dipende da quanto sono lunghe le graduatorie, possono esserci nomine da GPS fino a dicembre. No, per Napoli non so niente. Ripeto, fate prima a guardare gli uffici scolastici e non a chiedere a me. Ma com'è possibile che l'algoritmo a Brescia abbia sbagliato? Ci sono stati degli errori nell'attribuzione delle supplenze. Non mi è dato sapere come mai, però probabilmente a sistema sono state inserite o più supplenze del dovuto, oppure hanno inserito più supplenze, cioè hanno inserito la stessa supplenza più volte, perché per esempio a Milano è stato attribuito uno stesso spezzone a otto persone diverse. E voi capite, immaginatevi quelle otto persone, tutte lì per lo stesso posto. Accettare supplenze dal GPS al 30.06 se si ottiene il ruolo sulla stessa classe di concorso. Cosa succede? Succede che se accetti il ruolo lasci la supplenza. Se poi il ruolo lo rifiuti, continui la tua supplenza. È normale non riuscire a fare interpello? Adesso è presto per gli interpelli. Ci siamo ancora alle nomine da GPS? Sì, è prestissimo per gli interpelli, ragazzi. Dovete considerare un po' come le MAD, cioè quando, solo se, tutte le graduatorie verranno esaurite, si passerà agli interpelli. Quando partiranno le assegnazioni da graduatore all'istituto per le catere accantonate da concorso? In Lombardia sono tantissime. Sì, però dopo l'esaurimento delle GPS. Sono in prima fascia, sostegno, posizione 2405 a Catania. Potrebbe esserci speranza? Non lo so. Non ne ho idea. Non ne ho idea, ragazzi. Se si viene chiamata da GPS ma non puoi accettare per un problema di salute che ti tiene fermo circa 2-3 mesi e ti metti malattia. Accetti e ti metti malattia. Che scherziamo? Ci mancherebbe. Spero di no, ma poniamo che tu sia immobilizzata a letto, ti accetti e ti metti in malattia. 2-3 mesi di malattia, dopodiché vai a lavorare. Alcune GPS non sono ancora uscite. Come mai? Spero che stiano aspettando per fare un lavoro fatto bene. Spero, però non lo so. La chiamata del GPS in caso di maternità. Come si fa? Accetti e ti metti in maternità. Io veramente mi voglio rassicurare su questi punti. Cioè la malattia, la maternità, tutto ciò che è a norma di legge, scusate cane, è un vostro diritto. Si prende servizio e si usufruisce del diritto, della malattia, della maternità, di quello che è. Hanno fatto le nomine, non ci hanno fatto firmare la presa di servizio. Perché l'algoritmo ha sbagliato, sì, lo so purtroppo. Ottenendo il ruolo primaria con contratto da GPS 3108, resta confermata la sede per l'anno di prova, anche per gli anni successivi, una volta passato l'anno di prova? Se il posto lo ottieni nella stessa classe di concorso, nella stessa regione per cui hai fatto il concorso. Non sono stata chiamata, ma alcune scuole che avevo inserito nelle 150 preferenze sono ancora disponibili. Perché? Eh, Marta, purtroppo inserire una scuola non è tutto, nel senso bisogna vedere che tipologie di disponibilità ci sono. Per esempio, se sono disponibili solo spezzoni e tu hai inserito solo contratti annuali, ovviamente non ti hanno dato quel posto. Se sono disponibili solo COE e tu non hai messo il flag sulle COE, ovviamente non ti hanno dato quel posto. Cioè, bisogna analizzare bene la situazione. Per quello vi dicevo ieri che tante segnalazioni poi alla fine sono infondate. Allora, qualora metti tutta la provincia, l'algoritmo non potrà saltarti, giusto? Ho capito che le riserve passano avanti, però tu non vieni saltato al massimo, vieni chiamato al secondo turno. Eh, se ci sono posti disponibili, sì. Se vieni convocato per la presa di servizio, ma hai il concorso lo stesso giorno, come si fa? Appena sai di essere convocato, prendi contatto immediatamente con la scuola e fai immediatamente in modo di fruire di un permesso retribuito, che adesso è anche diritto dei supplenti al 30 giugno e al 31 agosto. Allora, aspettate che mi sono perdita. Buongiorno Cate, grazie come sempre alla tua disponibilità e divulgazione. Volevo chiederti, ma se ricevessi una chiamata da graduatoria d'istituto, otterrei comunque il punteggio come da... Certo, ci mancherebbe, certo. Le chiamate da graduatoria d'istituto danno punteggio come quelle da GPS, sì. Ma se rinunci da GPS ti chiamano comunque da G? Sì, però non per supplenze annuali. Cioè, rinunciare a una supplenza da GPS significa che tu per quell'anno in corso non puoi più ottenere supplenze annuali. Quanti permessi retribuiti ha diritto un insegnante al 30 giugno? Tre giorni, come insegnanti di ruolo. Prese di servizio, vengo da fuori regione o da isole, come devo comportarmi? Mi danno 48 ore, devi prendere contatto... Scusate che devo chiudere. Niente, vabbè, non ci riesco. Devi prendere contatto con il dirigente e chiedere la deroga della presa di servizio. Un minuto di silenzio per il mio poggio a telefono che si è rotto. Allora, cosa succede se qualcuno che doveva prendere il ruolo non prende servizio oppure non ha le carte in regola? Il posto va in supplenza GPS o si scorre la graduatoria del concorso? Allora, se qualcuno non prende servizio per il ruolo vuol dire che rinuncia al ruolo e quindi si scorre la graduatoria di riferimento del concorso. Se poi non si trova nessuno per le missioni in ruolo, viene messo in circolo per i turni successivi delle GPS. Chi sta facendo ora l'anno di prova tramite call veloce, che è stata abolita, quindi credo tu intenda la mini call. Può partecipare al prossimo concorso docenti? Sì, sì, tutti quelli che hanno i requisiti d'accesso possono partecipare ai concorsi. Io ho lavorato in più scuole in cui a un certo punto veniva emessa una circolare che diceva che non sarebbero stati concessi giorni a ridosso delle vacanze di Natale. Ma questo perché? Perché erano scuole in cui in tanti di noi erano del sud Italia e quindi se cominciamo in dieci a chiedere giorni di permesso prima delle vacanze di Natale, voi capite che la scuola si svuota. E quindi sono solitamente delle misure, tra virgolette, estreme che i dirigenti prendono quando conoscono i loro polli e sanno che o prima di Natale o al rientro dalle vacanze di Natale poi la scuola si ritrova vuota. E ovviamente, cioè capisco il problema nel senso. È possibile mandare l'interpello anche se sono in GPS seconda fascia? Ho paura di non riuscire a rientrare in nessun posto. Sì, se non riesci a rientrare nei posti, sì. Allora, buongiorno, grazie sempre. Chi ha la riserva del servizio civile ha il posto garantito e supera chi ha più punteggio? Allora, nessuno ha il posto garantito, magari. Nessuno ha il posto garantito. Semplicemente, le riserve hanno una percentuale di posti riservati. Vuol dire che, per esempio, il servizio civile universale ha il 15% di posti riservati, ok? Su 100 posti, 15 sono per il servizio civile universale. Vuol dire che i primi 15 riservisti avranno quei 15 posti. Se tu sei il sedicesimo dei riservisti, pur con tutta la riserva, tu rimani senza posto. Cioè, il riservista non è che ha il posto garantito in qualsiasi caso, ok? Passi davanti a tutti gli altri, sì, ma nei limiti imposti dalla percentuale di riserva, ok? Come funzionano gli ulteriori turni di nomina da GPS? L'algoritmo riparte dal punto in cui si è fermato? Sì. L'algoritmo riparte dall'ultimo docente non nominato, non riservista. Quindi non torna indietro. Quindi si fa un nuovo ricalcolo delle disponibilità sulla base delle rinunce che ci sono state nel turno precedente e si va avanti con lo scorrimento della graduatoria. Basta. Questo. Essendo inserita in GPS posso mandare gli interpelli. Mi hanno detto che nel caso in cui devo eliminarmi dalle GPS. Giussi, ti hanno detto un'informazione aggiornata all'anno scorso? Si può rispondere agli interpelli se si è in GPS, basta che tu non abbia ricevuto una cattedra da GPS però. L'algoritmo assegna per prima le cattedre ai riservisti o si inizia dalla graduatoria generica? L'algoritmo segue l'ordine di graduatoria. Si segue sempre l'ordine di graduatoria. Solo che se io ho 100 persone in graduatoria e devo assegnare il 15% di posti ai riservisti, prendo tutti i riservisti e gli do il posto per primi, ok? Sempre, purché rientrino nella percentuale di posti disponibili riservati a loro. Però la graduatoria viene sempre analizzata in ordine. Che significa la X per le GPS? E dipende in che colonna è. Ma quelli con servizio civile non hanno priorità di scelta sulla sede, giusto? No, quelle sono le 104. Attenzione, il servizio civile deve essere universale, esatto. Secondo te quale punteggio è considerato valido per vincere il concorso dai 230, dai 240, dai 245? Allora, io conosco persone non riserviste che hanno vinto il concorso con 200. Quindi, non lo so, dipende dalla quantità di posti disponibili. Non ha senso, secondo me, fare confronti per regioni diverse. Perché graduatorie di regioni diverse sono mondi diversi, completamente diversi. Aver fleggato l'odevole servizio cambia qualcosa per l'algoritmo? Eh sì, perché l'odevole servizio entra in campo nel caso in cui ci siano docenti che hanno pari punteggio. Anche questo è stato spiegato più volte. Non sono rientrato nelle nomine per A22, mi dispiace molto. Quali sarebbero le sanzioni in caso di rifiuto di una supplenza da incrociata e sostegno? Che non ti chiamano più per supplenze annuali per l'anno in corso, né da GPS né da nessun'altra graduatoria di inserimento. Se arriva nomine e poi correggono il punteggio dopo la presa di servizio, cosa succede? Rifanno le nomine? Se rettificano il punteggio vuol dire che cambia la tua posizione in graduatoria. Se cambia la tua posizione in graduatoria potrebbero anche toglierti la supplenza e darla a qualcun altro. Ovviamente non rifanno le nomine di tutti se il problema è solo il tu, cioè se la rettifica interessa solo te. Bisogna vedere di che entità è questa rettifica. Se ti tolgono 20 punti e tu perdi 50 posizioni, sparo, ovviamente non avrai più diritto a quella supplenza. Quindi ti telefonano e ti dicono che te ne devi andare. La rettifica è questo. Rettificano il punteggio, se te lo rettificano aumentandotelo ovviamente è una cosa a tuo favore. Ma se ti riducono i punti, chiaramente nella maggior parte dei casi perderai posizioni. La X sulle preferenze. Nei bollettini di nomine la X nella colonna preferenza vuol dire che hai espresso un titolo di preferenza. Come ad esempio il buon vecchio caro estinto lodevole servizio. Oh, sta cosa dell'odevole servizio non entra comunque nella testa delle persone. Sì, in caso di rifiuto di una supplenza non ricevi più supplenze annuali per l'anno in corso. Sì, sì. Se ci si abilita su un grado, i punti di tale abilitazione valgono anche su altri gradi? Dipende di che gradi stiamo parlando. Secondo te quando ci sarà il secondo concorso? Il bando è previsto in autunno, la realizzazione delle prove non ne ho idea. Con un contratto full time alla primaria sapresti dirmi a quanto ammonta la Naspi? La Naspi si calcola in base alle settimane per cui hai lavorato. Quindi non è un calcolo che ti posso fare io qui, perché tra l'altro si calcola sulla base del minimo salario minimo, stipendio minimo conglobato. È un calcolo matematico che non posso farti certamente io qui in questo momento. Secondo te quindi per Brescia dovrebbe uscire un nuovo bollettino? Certo, certo. Però guardate, io spero che si prendano il dovuto tempo prima di far uscire il nuovo bollettino. E soprattutto che gli altri uffici scolastici regionali di tutta la nazione utilizzino bene il cervello prima di fare nomine. Perché veramente vorrei che non succedesse da nessun'altra parte, però magari pretendo troppo. Si può accettare una supplenza da interpello in un'altra provincia rispetto a quella da cui si è inseriti in GPS? Pare di sì. La norma in questo senso non impone al momento delle limitazioni, a meno che non verranno chiarite successivamente. Anch'io mi trovo la X su preferenze, ma non capisco il motivo. Credevo si riferisse alla scelta delle 150 scuole. No, vuol dire che hai espresso un titolo di preferenza. Per esempio, hai figli? Hai fleggato il lodevole servizio? Cioè, la colonna preferenze fa riferimento alla sezione titoli di preferenza che abbiamo compilato quando ci siamo inseriti o abbiamo aggiornato le GPS. È quello. Ok? Sì, figli. Ok, allora è quello il tuo titolo di preferenza. È uno dei più diffusi, per quello dicevo. Mi è venuto subito da dire perché la maggior parte delle persone o lo flegga a titoli di preferenza perché ha figli o perché ha prestato il lodevole servizio. Anch'io una X, ma non so perché. Elena, devi vedere che cosa hai compilato. Hai flegato il lodevole servizio? Hai anche tu figli? Altri titoli di preferenza? Quali erano? Vabbè, invalidi civili, figli mutilati di guerra, quelle cose lì abbastanza nefaste. GPS in Veneto quando? Se lo sapessi sarei maga. No, i figli non devono essere a carico dal punto di vista fiscale per fleggare la preferenza. Basta che tu abbia figli legalmente riconosciuti, di età inferiore però a 18 anni. Allora, ma se ho sbagliato l'inserimento di un titolo e la segreteria che mi modifica il punteggio e mi reinserisce in graduatoria o mi escludono dalla graduatoria, ti rettificano? La segreteria chiede all'ufficio scolastico la rettifica del punteggio. Chiaramente se da questa rettifica del punteggio, questa rettifica avviene perché tu hai finto, poniamo eh, faccio fin, magari tu hai finto di avere tre lauree che tu non hai, ovviamente scatta la denuncia di conseguenza, cioè in base all'entità dei controlli che loro fanno determinano poi la conseguenza, ok? Ovviamente il mio era solo un esempio. Allora, ho partecipato alla Mini Call Veloce Veneto, non sono rientrata per i punti che mi sono stati tolti per il CLIL, ma so che altri sono rientrati con quel certificato. Che fare? In teoria dovrebbero rettificarli a tutti, quindi. Come mai su Argo ci sono scuole che accettano MAD? Non solo gli interpelli, perché ci sono delle scuole che ancora non hanno capito. Allora. Vediamo, aspettate che mi sono persa. Io non ho né servizio né figli, eh, devi controlla la, la, come si chiama, l'istanza di inserimento, aggiornamento GPS per vedere che cosa hai flegato, magari hai sbagliato. Con 40 punti c'è possibilità di essere convocati in una città come Brescia? Eh, non lo so. Chi può aderire agli interpelli? Tutti coloro che non otterranno nomina da GPS e tutti coloro che sono senza titolo per le supplenze. Il sindacato mi ha sbagliato a flegare il titolo di preferenza. Cosa comporta? Devi fare istanza di autotutela, cioè inviare una mail all'ufficio scolastico in cui dici ho sbagliato. Ho sbagliato, nel senso che anche se te l'ha fatta il sindacato, tecnicamente la domanda è la tua, quindi chi ne risponde da un punto di vista legale sei tu. Questo è un discorso che faccio ogni anno quando si tratta di GPS, concorsi, eccetera, eccetera. Quando ci si affida qualcuno per la compilazione bisogna sempre tenere presente che poi i responsabili siamo noi. E' possibile che il contingente destinato alle assunzioni in ruolo d'ordinario 2020 possa essere ampliato durante l'anno? No. No. Anzi. Già un miracolo con le assunzioni che stanno facendo, purtroppo. Chi ha tre anni di sostegno e un punteggio minore scavalca? Chi ha un punteggio maggiore al primo anno di sostegno? Tutte senza abilitazione. Se stai parlando di GPS, assolutamente no. Ho seguito il corso sulle 150 preferenze, ho inserito come primi posti le annualità, ma secondo te saranno tutte riservate per i vincitori di concorso? Una gran parte, purtroppo sì. Quest'anno si sta verificando una grande riduzione dei posti al 31 agosto, ovviamente perché sarebbero posti vacanti e quindi sono stati accantonati per il concorso. Servizio civile universale comporta il diritto ad una riserva del 15%, sia in termini di GPS che in termini di concorso. Di graduatoria di merito del concorso, scusate. Gli interpelli fanno punteggio con titolo magistrale alle spalle? Dipende. Se hai il relativo titolo per quell'ordine di scuola ti fanno punteggio, altrimenti no. Se non si viene chiamati col primo bollettino, cosa consigli di fare? Aspettare i successivi. Se l'ufficio scolastico di Torino non risponde al reclamo avverso e ripubblica le GPS col punteggio errato, cosa si fa? Tu devi continuare a segnalare. A quel punto se ti ignorano è un problema loro e tu ti sei tutelato. Ma Venezia quando farà uscire le GPS? Non me lo dire. Non me lo dire perché l'anno scorso sono uscite il giorno delle nomine. Non risulta la R nonostante io abbia inserito nella domanda la riserva per il civile universale. Cosa devo fare? Scrivi all'ufficio scolastico. Non mi chiedete se ho novità per le varie province. Non ci andate a guardare sui vari siti perché non ho... Cioè non sono un telegiornale. Ogni tanto vi segnalo qualche caso ma sono casi eclatanti nella maggior parte dei casi. Mi ricordo la tua ansia di convocazione l'anno scorso e ora mi ci ritrovo totalmente. Quest'anno non ho ansia perché so che non la riceverò. Quindi, vabbè, quest'anno è un altro tipo di situazione, di sensazione. Tra l'altro tra due giorni inizio il TFA. Quindi, no, tre. Tre. Tre giorni. Tra tre giorni. È tutto un altro tipo di sensazione. È un po' come se mi tagliassero un braccio perché per la prima volta dopo sette anni non entro in classe. Mi sento male. Cioè so che è una cosa momentanea solo per quest'anno. Però è bruttissimo. Non mi manca per niente l'ansia della nomina. Certo, anch'io vorrei sapere che posizione ho in graduatoria perché... Così. Anche solo per curiosità ma... Allora... Anch'io tra poco inizio il TFA. Ah, sì. È devastante. Ecco, diciamo... Siete molto realisti e per questo vi ringrazio tanto. Vi ringrazio tanto. Io sono... Da un lato sono entusiasta, dall'altro so che... Sarà impegnativo. Non vedo l'ora che passi quest'anno per tornare in classe il prima possibile. Poi nel frattempo c'è l'orale qui che mi aspetta. È come una spina nel fianco. Perché sento che non riceverò nomina? No, io ho la certezza perché ho ritirato la domanda delle preferenze. Perché farò il TFA e non è compatibile con una supplenza. Quindi non... Cioè, ho da frequentare il TFA tutti i giorni, da lunedì al sabato. Per cui non è compatibile con una supplenza. Non lo sarebbe. Inizialmente, prima di sapere gli orari del TFA, avevo compilato per degli spezzoni. Però appena hanno pubblicato gli orari, hanno detto no. È il caso di fare una scelta. E quindi l'ho fatta, insomma. A malincuore, però. Come mi diceva anche qualcuno, sto seminando adesso per raccogliere in futuro. Quindi va bene così. Nel frattempo sto ripassando per l'orale, che mi costerà due bei giorni di assenza dal TFA. Che saranno tra l'altro gli unici che potrò fare. Quindi... Io ho il TFA dal mercoledì al sabato. Dal mercoledì al sabato tutti i pomeriggi. È stata un'esperienza bellissima, soprattutto quando è finita. Come vedo questa questione del TFA e dei corsi in dire. Meglio che non parlo. Ti sembra giusto che una persona per frequentare il TFA non possa lavorare? Eh, lo so. Questo è veramente un grande dramma. Scegliere tra la formazione e il lavoro. Ma soprattutto la differenza tra gli atenei. Perché, per esempio, ci sono atenei che lo organizzano solo nel weekend. E questo permetterebbe di lavorare. Sto ripassando anch'io per l'orale dai tuoi materiali. Eh sì, guarda. È virtualmente come se ripassassimo tutti da questo quaderno. Vediamo. Oggi, allora, mi sono fatto un elenco degli argomenti. Quelli che vedete colorati sono quelli che ho ripassato. E poi dopo c'è... C'è tutta la parte d'inglese. Chi rinuncia a nomina GPS può essere nominato da G.I. per una cattedra accantonata per il concorso? No. Chi rinuncia a nomina da GPS può essere nominato da graduatore di istituto solo per supplenze brevi. Comunque, sì. Insomma. Io ho lavorato 24 ore come educatrice scolastica e il pomeriggio frequentavo il TFA a 70 km di distanza. È stata dura, ma è finita. Comunque ho comprato le penne alla Lidl tutte colorate che avevi fatto vedere. Bene. Per favore mi puoi dire se posso prendere dei giorni di permesso studio a scuola per poter fare l'orale del concorso? Permesso studio no. Sono permessi retribuiti, sì. Fatto due anni fa, esperienza stupenda. No, io sono contenta del TFA, devo dire la verità. Sono un po' meno contenta del fatto che sarà abbastanza una galera, nel senso che sono molto rigidi. Io ho scritto che avrò l'orale del concorso e che quindi mi dovrò giocoforza assentare per due giorni consecutivi. Mi hanno fatto il conto, sono stati anche carini, però mi hanno detto sappi che sono le uniche assenze che potrai fare durante l'anno. Quindi niente, mi accompagnerete semmai mi verrà il colera a lezione al TFA. Però no, ho visto, a parte di scherzi, ho visto il piano di studio, ho visto i laboratori, alcune cose secondo me saranno un po' ripetitive rispetto a formazione primaria, tipo didattica speciale, eccetera. Al netto del fatto che poi potrebbero essere aggiunte delle cose, però sì, ci si abitua a tutto. Vorrei prepararvi al concorso, mi dai qualche consiglio da dove studiare? Allora, per la preparazione del concorso vi ho messo il link nelle storie, vi ho fatto anche il rilieri, perché su YouTube trovate i miei video di preparazione alla prova scritta. Potete usarli o per la prova scritta del prossimo concorso o per ripassare all'orale come sto facendo io in questo momento. E sono 11 video più gli schemi. Quindi trovate il link per l'abbonamento a YouTube nelle storie. Sono 29,90€, li pagate, vi vedete i video, mi scrivete su Instagram, mi dite guarda ho fatto l'abbonamento, io vi do il link al drive sia per i video che per gli schemi, così vi rimangono non solo per il mese di abbonamento, ma anche vita natural durante. Insomma, comunque è molto, cioè è estremamente semplice. Mi sta facendo male il braccio perché non mi funziona più il trappiedi. Ci sono novità per le donne di concorso PNRR? No, al momento no. Il TFA si può solo conseguire in università pubbliche in Italia o anche private? Allora, sicuramente nelle pubbliche viene erogato anche dalle università tipo la Enna Core di Enna, la Enna Core di Enna, simpatica io. Tipo la Core ad Enna che è un'università, se non erro, metà statale, metà no. Ma università private? Sinceramente non lo so, non credo. Pensi che possano andare bene i tuoi video anche per il prossimo concorso? Sì, perché sappiamo già che il regolamento concorsuale sarà lo stesso per tutti i concorsi PNRR. Quello che aspettiamo ovviamente è il bando del prossimo concorso per capire i posti disponibili, ma in termini di struttura delle prove e argomenti sarà la stessa cosa. E lo scritto del concorso? Sì, è uguale per tutte le classi di concorso. In teoria l'hanno fatto per guadagnare tempo, in pratica delle lumache ci avrebbero messo meno. No, le telematiche che io sappia non lo fanno il TFA, no? L'OSP ha comunicato che rettificherà il punteggio senza il CLIL, ma ancora non l'ha fatto. Potrei avere problemi nel momento del conseguimento della nomina? Eh, non lo so. Come funziona questo concorso PNRR? Una prova scritta uguale per tutte le classi di concorso e poi una prova orale invece specifica sulla classe di concorso. Aia, la schiena. Ho letto chi entra di ruolo può ritirare la domanda, ma esiste un termine? Beh, l'immissione in ruolo era oggi, cioè il termine per l'immissione in ruolo era oggi, quindi se oggi andate a firmare il ruolo ritirate le preferenti. Chi ha preso il servizio con Minicall deve comunicare tramite mail all'OSR per le GPS? No, no, no. Allora ragazzi, io vi saluterei visto che è quasi mezzogiorno e mi vado a fare... Cosa faccio? Il DPR 80 2013 è il Sistema Nazionale di Valutazione, mi so. Vabbè, andrò ad affrontare questo macigno. La prova orale è la lezione simulata, perché sto ripetendo gli argomenti? Perché oltre alla lezione simulata si risponde anche a delle domande che si estraggono. Quindi non basta la lezione simulata. Va bene, a questo punto io vi saluto, ci vediamo presto, spero. E niente, grazie mille. Ciao a tutti.